. Fa sempre meglio, e non è un caso che ieri, nello scontro del 31 ottobre 2018 che chiude quindi il mese, la vita in diretta abbia persino battuto pomeriggio 5 nella seconda parte, con ascolti in crescita. Peccato che oggi Barbara D'Orso non sia in diretta perché sarebbe stato interessante capire come avrebbe commentato il dato di ascolto e quella curva che non era poi così in alto, la vita in diretta batte nella seconda parte pomeriggio 5 ma vediamo nel dettaglio i dati perché anche in questo caso, la differenza è davvero minima. E, sempre con la stessa onestà che ci contraddistingue, anche perché con i numeri non si scherza, precisiamo che pomeriggio 5 è stato il programma più visto del pomeriggio con una media di 1,8 milion di spettatori mentre la vita in diretta si è fermato qualche millimetro sotto ma non ha trovato la vittoria.